Gente sono collezionista 58 e oggi in questo video voglio farvi vedere la mia squadra di nazumi l'event 2 fire poi metterò su anche degli extra e farò vedere ancora dei video come ho aggiornato la mia squadra e i miei allenamenti vabbè il livello medio nella mia rosa sarebbe 40 o 50 il più grosso è xin al 41 perché l'ho preso da poco poi continuo a cambiare giocatore devo scegliermi bene la rosa beh si comincia allora mark evans livello 59 mano di luce e2 mano del colosso e1 pugno di giustizia energia della terra l1 scivolata di fuoco e salto temporale poi byron love afrodit tiro squadra colpo supremo salto temporale tiro angelico scimmia volante e ragnatela e2 livello 53 colpo supremo salto temporale sono e1 invece tiro angelico e1 stonewood 54 64 scusate forza calcio triplo e2 calcio stordente e1 scivolata micidiale e2 doppio fulmino zuma e1 e doppio tocco axel blaze livello 62 attaccante vabbè attaccante tornato di fuoco 62 dribbling rovente e2 scusate dribbling rovente e2 trampolino zuma e1 tormenta di fuoco l3 trasformazioni tenza del fuoco e2 poi frank drake l'ho reclutato da da hillman a tokyo livello 59 difesa spirale bomba fasulda salto avvitato colono difensivo freccia torminosa e furia dei venti poi janus janus o giardangrino e livello 65 cometa strale teletrasporto e2 densa del fuoco e2 poi a doppio calcio per spaziale meteoro infuocata e zona micidiale ethan messer livello 61 tiro 100 calci scan offensivo e1 scan difensivo e2 finta invisibile calcio gemello f e doppio ciclone e1 calcio gemello f è una lunga storia da trovare vabbè robert mayer detto mummi livello 63 centrocampista della occult palude di mani e1 nebbia velenosa ragnatela e1 vortice magnetico triangolo ipnotico doppio tocco sean frost livello 63 tormenta glaciale aurora dribbling difesa di ghiaccio e2 poi o richiamo del lupo l2 triangolo zeta trasformazione e1 sharp livello 62 grande illusione e2 calcio gemello e2 ariete in azuma e1 zona micidiale e2 l2 pingoo imperatore numero 2 e1 scan difensivo e2 eric o tiro roteante grande illusione e1 danza del fuoco e1 danza del fuoco e1 volo del fenicio formazione e2 palla di fuoco vabbè livello 54 livello 61 jack wall side muro di roccia e2 super armadillo e1 diga di roccia effetto talpa tiro psichico e calcio stellare vabbè livello 64 livello 64 difensore forza ragazzi on denaro stabile e1 taglio roteante e2 balena difensiva grande illusione e1 e rovesciato volante vabbè che la cambierò al 100% allora xino xavier livello 41 meteoro dei rompenti super 9 e flash fotonico poi impara croce di fuoco ha dribbling illusorio e1 e anche lama d'energia darrente la chance livello 50 portiere mano di luce mano del colosso mano insuperabile ognuno di giustizia e mano di luce tripla l1 e poi ha anche ventaglio gigante david samford livello 45 attaccante attacco squadra calcio stordiente pinguini imperatore numero 2 poi impara pinguini imperatore numero 1 saletta spiovente e turbine roteante lu e adesso cominciamo con le reserve lu edmonds vabbè lu edmonds rivolo 57 scatto bruciante scatto bruciante rovesciato volante e difesa di ghiaccio e2 poi capping vabbè eccetera poi ve li farò vedere magari in una seconda parte magari in un secondo video o nero canon nepten davine bobby marvin willy livello 45 non ha ancora imparato scan offensivo a colpo di sfortuna sviluppo d'ombre di ghiaccio di fuoco e new galaxy è messo un po' male perché non ha abbastanza non ha ancora tiron gelico poi ho da questi allora rob rob cardson eeeh mit blackstone e bob daruma per ultimo larry pogu forse ce ne sono altri non credo e ce ne sono altri vabbè che io non ho ancora reclutato si prendono con del password che se vi scrivete se ho numerosi iscritti vi farò un video come prenderli come prenderli la maggior parte o alcuni video le dirò ad esempio cardson ha trottola gigante colpo critico ed è soltanto un difensore eeeh a livello 10 wow siamo già a 6 minuti 40 malcolm knight o timmy mit blackstone a livello 10 attaccante simulazione dark tornado nel bievole snows bob daruma riprese clown equilibrista a livello 10 centrocampista vabbè Thor Stogberg l'ho preso oggi oggi livello 25 attaccante per soffa sono difensori super tecnica mondo inarrestabile vabbè zel ah larry livello 10 attaccante clown equilibrista poi ho draint galileo vabbè questi sono tutte le altre riserve allora io farò numerosi video perché anche questi mi piacciono far vedere la mia squadra che andrà ancora allenato numerosamente poi allora gente da collezione 658 e da super zopingu che oggi non è potuto essere con noi ci vediamo alla prossima ciao ciao